Siamo alla trattoria della Crepa perché questa sera cinque trattori del centro nord presenteranno questa nuova associazione delle premiate trattorie. Stasera qua con me abbiamo Moreno e Giuliana Saragoni, raccontateci un po' cosa significa per voi far parte di questa nuova associazione e che cos'è la filosofia della trattoria. Allora, per me è una cosa veramente bellissima, sono colleghi che ci siamo conosciuti diverso tempo fa perché appunto eravamo nei Tre Gamberi, negli Osterie d'Italia, le Chioccele, quindi quando ci hanno proposto questa cosa perché appunto facciamo tutti cinque questa filosofia, quindi per noi è stato un onore averci scelto perché in fondo quando è stato deciso e quindi fra i cinque eravamo scelti anche noi, per noi è stato molto importante perché questa cosa che noi abbiamo iniziato a fare subito quando io appunto ho sostituito, insomma abbiamo preso la locanda dei miei genitori appunto abbiamo fatto questa ricerca e quindi qui invece dobbiamo chiederlo a Moreno perché è stato lui che mi ha aiutato proprio nella ricerca dei piatti del nostro territorio, sottolineo territorio i piatti che mangiavo io di bambina, piatti semplici con prodotti del nostro territorio quindi cerchiamo anche adesso di utilizzare appunto i prodotti del nostro territorio infatti fino a poco tempo fa abbiamo fatto le erbe, i fiori, adesso abbiamo cambiato il menu visto che se ne trovano pochi, però ecco siamo al confine anche con la Toscana quindi molti prodotti andiamo anche in Toscana a prenderli perché i nostri genitori, i nostri parenti andavano a lavorare in Toscana andavano nel mare Mar Pop perché lì nel nostro, a San Piero in Bagno il lavoro non ce n'era molto quindi loro erano costretti a uscire e quindi portavano anche delle ricette di quello che noi facciamo anche tanti piatti, anche piatti che vengono fatti in Toscana quindi la valorizzazione della gastronomia del territorio passa dalla storia ma passa anche dallo studio ovviamente, però volevo aggiungere quello che ha detto mia moglie il concetto di trattoria, secondo me, si differenzia dal concetto di ristorazione, di ristorante proprio perché la trattoria, da che mondo in mondo almeno, è sempre stata almeno per la mia conoscenza, è sempre stata la trattoria, la rappresentante della cucia dell'uovo la trattoria faceva la cucina della zona in cui si trovava e qui si ricorda a Campadietra, ci siamo detti una cosa che voi avete sottolineato bene, ma io ci tengo ancora a sottolineare che la cucina di un luogo deve avere il sapore della terra il sapore della terra, inteso come mangiamo quello che la nostra terra produce mangiamo anche gli animali che si nutrono dei prodotti della nostra terra vabbè, a parte questo la trattoria si differenzia dal ristorante per quello che noi abbiamo voluto, noi cinque, abbiamo voluto rimarcare questo discorso di trattorie italiane in questo caso premiate, perché per notta fortuna abbiamo avuto dei riconoscimenti e quindi ci piace essere chiamati trattorie anche se qualcuno intravede, come devo dire, anche l'aspetto del ristorante per noi va meglio trattore ci piace più fare cucina del luogo con grande qualità della materia prima e soprattutto consumo di prodotti del luogo senza bisogno di andare a tingere ad altri territori quello lo può fare un ristorante lei diceva invece per il fatto storico sì, quanto conta il fatto storico quindi il fatto di cercare piatti antichi per farli vivere oggi e quanto conta lo studio quindi attuale certo, è importantissimo secondo me fare riferimento, sapere cos'è successo prima di noi perché oggi è facile fare ristorazione è facile perché abbiamo troppo a disposizione i migliori prodotti li possiamo avere basta una telefonata bisogna rendersi conto che fino a un certo numero di anni fa mettiamo anche solo 70-80 anni fa la gente non aveva il telefono per ordinare e non aveva neanche il supermercato nelle vicine come faceva a fare il cucinio? cucinava quello che poteva in certe zone non parlo delle città non parlo dei paesi più evoluti parlo delle realtà come la nostra il bagno di Romagna zona depressa un tempo zona depressa vuol dire che l'economia non esisteva quindi la gente che abitava lì viveva di agricoltura viveva soprattutto cioè si alimentava con i prodotti del territorio esaltandoli anche se questi prodotti erano erano come devo dire la semplice erba di campo che tu raccoglievi però la cucina teneva conto di queste cose qui perché da secoli si era riusciti a capire che ci si poteva alimentare in quella maniera quando si aveva la possibilità di mangiare carne oppure di mangiare pasta all'uovo benissimo ma il più delle volte mancavano queste cose e quindi la gente si rivolgeva al territorio come dico io si guardava attorno cosa aveva da mangiare di edibile, di mangiare iniziamo 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 iniziamo